In questa lezione studieremo la piramide. La piramide è uno dei poliedri ed è un poliedro particolare perché, a differenza di quelli studiati prima di lei, ha una sola base, quindi ha un solo poligono di base, mentre il prisma aveva due policoni di base. E la piramide ha un'altra caratteristica importante, tutte le sue facce sono triangoli. Andiamo a vedere come si disegna una piramide. Noi principalmente ci occuperemo dello studio delle piramidi quadrangolari regolari, quindi delle piramidi che hanno per base un quadrato. Andiamo a disegnare la figura di base che è un quadrato esattamente come facevamo con il cubo o con qualsiasi altro solido base quadrata. Quindi vado a disegnare la base quadrata, tratteggiando le parti che non si vedono. E come secondo passaggio devo andare ad individuare il centro di questo poligono, quindi nel centro del quadrato, perché la piramide a base quadrata ha l'altezza che cade perfettamente nel centro della circonferenza iscritta nel poligono di base, quindi cade nel centro del quadrato. Allora vado ad individuare il centro del quadrato, facendo una costruzione. Una volta individuato il centro del quadrato, da lì vado a tracciare l'altezza. Quindi prendo il nero, vado a tracciare l'altezza della piramide, scelgo io quanto farla alta. Adesso vado a riprendere il segmento, però continuo, quindi senza tratteggio, e vado ad unire il vertice della piramide, che è quindi l'estremo dell'altezza, con i vertici della base, facendo attenzione a tratteggiare i vertici, gli spigoli, scusate, nascosti. Quindi ecco la nostra piramide, e questa è quadrangolare regolare, perché ha per base un quadrato. Quindi vado a mettere le lettere A, B, C, D, chiameremo V il vertice e O il piede dell'altezza. Quindi abbiamo disegnato la nostra piramide. Quindi andiamo a scrivere i nomi delle varie parti. Allora, i lati del poligono di base saranno anche i lati di base della piramide. Mentre parleremo di spigoli, quindi questi sono spigoli di base, i lati del poligono di base, quindi anche questi potete chiamarli spigoli di base, mentre chiameremo spigoli laterali questi. Questi spigoli laterali li abbiamo costruiti unendo il vertice della piramide con i vertici del poligono di base. Quindi sono dei segmenti che uniscono il vertice della piramide ai vertici del poligono di base. Mentre l'altezza della piramide, che è VO, quindi altezza della piramide, è quel segmento di perpendicolare che ci fornisce la distanza tra il vertice della piramide e il piano della base. Quindi è un segmento di perpendicolare condotto dal vertice fino al poligono di base. Abbiamo detto che la piramide ha una sola base, che nel nostro caso è il quadrato, e ha tante facce, tutte triangolari, quanti sono i lati del poligono di base. Allora, adesso andiamo a vedere con GeoGebra come si costruisce una piramide, così riusciamo a vederla proprio ruotando intorno al nostro solido. Allora, andiamo a posizionarci sul piano, quindi quello con gli assi rosso e verde. Andiamo a disegnare un poligono di base, quindi disegniamo un poligono qualsiasi. In questo caso abbiamo disegnato un pentagono. E andiamo a ruotare nuovamente la vista dei grafici per andare a mostrare anche il terzo asse del nostro spazio, quindi l'asse che ci dà la tridimensionalità. A questo punto andiamo a estrarre una piramide, quindi selezioniamo il poligono, ecco qui la nostra piramide. Questa piramide è una piramide che ha per base un esagono, quindi da sotto riusciamo a vedere la figura di base che è un esagono, mentre lateralmente, ruotandola, riusciamo a vedere tutte le facce. Notiamo subito che tutte le facce della piramide sono triangoli. Andiamo a disegnare come poligono di base un poligono regolare. Quindi, ad esempio, andiamo a disegnare un quadrato e andiamo poi a tracciare la piramide che ha per base questo quadrato. Quindi, come vedete, possiamo mettere qualsiasi poligono come base della nostra piramide. Quindi, ecco la nostra piramide che ha per base il quadrato e quindi, muovendo il grafico, la base quadrato e le quattro facce laterali. Eccole qua. Quindi, riusciamo a ruotare attorno alla nostra piramide per vedere tutte le sue facce laterali. Quindi, in questo caso, il vertice GeoGebra l'ha chiamato E semplicemente perché va in ordine alfabetico, però noi, come ripeto, lo chiameremo V per identificarlo meglio. Quindi, possiamo avere un poligono regolare come base e nel caso di quadrato chiameremo la piramide quadrangolare regolare. Se invece il poligono di base è un triangolo regolare, ossia un triangolo equilatero, diremmo che la piramide è triangolare regolare. Oppure diremmo semplicemente piramide triangolare, piramide quadrangolare, se il poligono non è regolare. Diremmo poi che la piramide è retta se nella sua base possiamo inscrivere una circonferenza e se l'altezza della piramide cade proprio al centro della circonferenza. Nel caso del quadrato, questo è possibile farlo, quindi io posso inscrivere una circonferenza all'interno del poligono di base e, in questo modo, posso andare a tracciare anche l'altezza della piramide che cadrà proprio nel centro della circonferenza inscritta nel poligono di base. E quindi la nostra piramide la possiamo dire retta. Quindi ecco qua, abbiamo tracciato la circonferenza inscritta vedete qui nel poligono di base l'altezza della piramide cadrà proprio nel centro della circonferenza adesso andiamo a tracciarla e quindi la piramide è retta quindi andiamo a tracciare la retta perpendicolare passante per E e perpendicolare al piano eccola qui quindi muoviamo un po' la vista del grafico per trovare il punto di intersezione eccolo qua, qui si vede meglio adesso andiamo a selezionare l'altezza perché è solo un segmento di tutta questa retta quindi lo andiamo a evidenziare da qui a qui adesso lo coloriamo anche così si distingue lo facciamo giallo e andiamo ad eliminare invece la retta in più ecco il segmento giallo e quello giallo è proprio l'altezza della nostra piramide che cade proprio nel centro della circonferenza scritta nel poligono di base questo perché la piramide è retta c'è una nuova parola da introdurre nel caso della piramide adesso andiamo a tracciare proprio il segmento che ha a che fare con questa nuova parola e la nuova parola è apotema l'apotema in una piramide è l'altezza delle facce quindi io vado a tracciare l'altezza della faccia che ho qui davanti quindi proprio questo triangolo che ho qui davanti quindi questo vado a tracciare la sua altezza quindi prendo la funzione segmento traccio il segmento E fin qui questa è l'altezza del nostro triangolo che è la faccia della piramide e questa è proprio l'apotema questo lo posso fare per ciascun triangolo che è faccia della piramide quindi ad esempio questo adesso lo possiamo colorare andiamo a fare l'apotema rosso quindi ecco che l'apotema è rosso l'altezza è gialla e se disegniamo adesso un altro segmento qui all'interno della piramide che non è un segmento a caso ma il segmento che unisce l'altezza il piede dell'altezza al piede dell'altezza del triangolo questo segmento riesce a costruire un triangolo rettangolo all'interno della nostra piramide quindi eccolo qua il nostro triangolo adesso lo andiamo a dividenziare adesso che abbiamo visto come si costruisce una piramide e come possiamo guardarla da tutte le prospettive diciamo adesso andiamo a vedere come si applica il teorema di Pitagora ad una piramide abbiamo visto che all'interno della piramide possiamo costruire dei triangoli rettangoli e adesso andiamo a ricostruirli qui quindi abbiamo tracciato l'altezza che è quella nera per notarlo meglio la vado a fare continua e non tratteggiata però solo per notarlo meglio quindi abbiamo tracciato la nostra altezza V poi abbiamo visto da GeoGebra che possiamo tracciare l'apotema l'apotema è l'altezza della faccia quindi è l'altezza del triangolo che costituisce la faccia della piramide a questo punto siccome l'altezza con la base forma un angolo retto io posso andare a disegnare il terzo lato il terzo lato del triangolo è in questo modo quindi quello verde e quello nero sono due cateti e entrambi vanno a formare l'angolo retto dell'altezza questo perché l'altezza cade perpendicolarmente rispetto al piano della base e il lato verde che ho disegnato che unisce il centro alla base è proprio il cateto e quindi è proprio sulla base della piramide quindi appartiene al piano della base quindi per questo motivo va a formare l'angolo retto qui mettiamo una lettera K quindi ho costruito il triangolo VOK e l'angolo VOK quindi attenzione ai simboli misura 90 gradi quindi è un angolo retto allora il mio triangolo VOK è un triangolo rettangolo quella nera è l'altezza ed è un cateto quello verde invece nel caso di questa piramide che considereremo noi nel 90% dei casi è metà lato del quadrato perché è il raggio della circonferenza inscritta quindi ho costruito questo triangolo utilizzando l'apotema l'altezza della piramide e il raggio della circonferenza iscritta in particolare ho preso quel raggio che unisce l'altezza il piede dell'altezza con il piede dell'apotema quindi l'apotema è proprio la nostra ipotenusa allora posso andare ad applicare il teorema di Pitagora e quindi l'apotema che è l'ipotenusa è uguale alla radice quadrata di altezza alla seconda più metà al lato alla seconda che è il raggio della circonferenza iscritta nel nostro caso quindi per ricavare i cateti vado a fare altezza uguale radice quadrata di apotema alla seconda che è la nostra ipotenusa meno l'altro cateto alla seconda quindi metà al lato alla seconda per trovare il terzo cateto che è le mezzi vado a fare radice quadrata di ipotenusa alla seconda meno altezza alla seconda quindi queste sono le formule per applicare il teorema di Pitagora alla nostra piramide per quanto riguarda l'area di base sappiamo che dipende dal poligono di base per quanto riguarda la superficie laterale e la superficie totale le vedremo nelle prossime lezioni